A te, vai, facci un applauso per te. È la prigia del vostro sito, dici tu? Però che mi senta, lo temo che devo arrivare, per la mia vita, la mia festa? Ok. Grazie. 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 Scusate, ho anche detto che faremo il prossimo incontro, uno dei prossimi almeno, a Perugno se è un LibreOffice, l'ho già lanciato, perché ti tocca. Benissimo, perché l'abbiamo ideato così al volo, visto che sia un progetto che si chiama LibreUmbria, che è un progetto portato avanti alla pubblica amministrazione, che quanto dopo è il libro, è il libro visto in questo caso, sia nelle pubblica amministrazione umbra, che poi anche nelle scuole, perché si serve passiamo con le scuole, e quindi è assolutamente giusto che oltre a queste instituzioni, per cui vogliamo studiare, ma che si faremo un incontro, lo organizziamo insieme all'Italia, quindi si chiede strato a tutte le attualità, chiamiamo la Spera di Tutte le Umbre, e quindi lo spieghiamo, facciamo un incontro, un software libero, e quindi li trovi in seguito, perché è giusto pagare i software, per un'opera di scuola, perché è sempre più, si deve sviluppare, e le donne possono avere un ruolo fondamentale, anche nelle scuole, anche nei propri figli, è importante, quindi, partire dall'età vescolare, e poi arrivare alle donne, che sono autore, e tutte le famiglie, e tutti i studenti che stanno cercando. Tu non sai che sei, in braccio a Elena, e il mio computer sta, essendo tenuto in braccio a Elena, ma brucia, e intanto giro, e poi ci sono da te, ecco, va, tutto a te. Bene, 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 abbiamo fatto una fantastica, bellissima, ma che continui praticamente. E guarda, bene. Insomma, anche per Sonia, per il sito, qualcuno ha già... Tanto la disponibilità di tutte noi, di tutti, no? Poi, questo sito crescerà, che si abbia tutte noi, insomma, per questa vita, ma vale. Sì, e... E... La mia notazione ha fatto vedere, se si chiamiamo della grafica, è importante... Senti, ma... Eh... Nella grafica, se secondo c'erano 10 parambi, non ricordate le vizie, quindi... Non mi ricordo mica quanti e quale, ma io ero una mail in un uomo. Ce lo so io. Da fatto. Ok. Se quante le domande, la PDF, con le presche eromate impossibili, quelle di PS3, e... ...e soluzioni grafiche... Allora, direi che... Sappiamo che, naturalmente, non è molto male di voi, ovviamente. Non è molto male di voi, ovviamente. Non è molto male di voi, ovviamente. Non è molto male di voi. Non è molto male di voi. Certo. C'era Natalia. Molto ringraziamento. Senza, ma credo che non l'abbia l'abbia già fatto. A Elena ci ha lavorato. Perché io, con la grande ragazza, non vedete paralleli di chi. Praticamente, se non ci fosse stata Elena, avreste vinto una cosa bellissima. Il mio blog è... C'è già, ma io ho messo un po' di informazioni. Abbiamo dato una prima. Ve lo faccio vedere. E adesso è appoggiato qui... Un sito che è agendiociaro.com Che è il mio blog. E mi arriva un'amica. E... Ma poi lo mettiamo qui. E poi mandiamo il video. Delle informazioni di oggi. Con i video che faremo. E quindi... Credo che possa diventare un bel posto di riferimento. Quelli... Andremo a inserire tutte le informazioni che adesso ci fanno passare in lista. Eh... Ma... Penso che non capi sicuramente rimanere... Un po' disorientata dalla... Dalla... Dalla lista di... 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 Per quello di cui... Demerebbe... E... Cominciamo così a mettere anche le informazioni sul top. Se vogliamo tutto da... Di... E quanti utilizzino. Che... e... Possiamo fare... Ciao amiche. Assolutamente. Bene. Mi ringrazio e vi lascio a vostri lavori Grazie a te... Ciao. Ciao. Allora Ciao. Ciao. Grazie